Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo nuovissimo video siamo qui perchè vi voglio far vedere la mia postazione da cremere qui intanto abbiamo un tappetino della Wotek che spingendo questo pulsante posso insomma cambiare colore oppure spingerla poi qui abbiamo un poggio cuffe della GXT poi abbiamo delle cuffie sopra il poggio cuffie di questa marca che non la conosco poi scrivetemi sotto i commenti se magari voi la conoscete poi abbiamo questo mino, questo astronauta che se io gli apro il casco questo qui, io lo apro si accende questo qua è molto buono per fare i tiktok se lo vedo che non li faccio poi qui abbiamo questa specie di led che lo posso accendere posso cambiare il colore poi abbiamo questo controller che è fatto per Android insomma io ci posso giocare posso giocare a Fortnite da mobile con questo poi abbiamo il controller della Playstation 5 dopo vi farò vedere anche la mia Playstation abbiamo altre cuffie della Music Sound poi abbiamo questo poggio telefono qui posso mettere il telefono e vabbè qui sopra ci posso mettere invece le cuffie poi abbiamo questo iPad questo iPad invece è molto utile mi piace tantissimo e lo uso per fare i video e oppure controllo le mie live poi qui abbiamo il secondo telefono è un secondo telefono anche un secondo iPad perché lo uso come iPad questo adesso è scarico però questo qua lo uso per controllare le live gli iscritti lo uso per andare su YouTube Studio poi qui abbiamo il LED di Pac-Man adesso li accendo fantasmini ok li posso accendere così se no così oppure così cioè quando parlo insomma si accendono oppure quando faccio un rumore non so però adesso spegniamolo adesso invece abbiamo questa cassa Bluetooth che la uso per fare i video si 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 anche questa per ascoltare insomma la mia voce quello che dico anche ed è della marca che non conosco Denver ok aspettate che la rimetto a posto ok mi sono mi sono dimenticato poi di farvi vedere questa custodia che è per iPad ok vi piace tantissimo è molto bella molto comoda vi protegge il vostro iPad io ci metto dentro il mio iPad però voi potete metterci anche un portatile perché è molto grande questa custodia ok e ma per ultimo abbiamo la nostra playstation 5 che è molto bella mi piace tantissimo gioco sempre a Fortnite se no faccio video su Fui Guys mi piace tantissimo ecco è un po' piena di polvere però non vi preoccupate che io me ne prendo cura poi qui come vedete abbiamo vediamo se riesco a farvi rivedere qui abbiamo dei led questi cosi bianchi li vedete quando accedono a play praticamente si illuminano fanno cose è ok ragazzi spero che vi sia piaciuta la mia postazione da gaming dove faccio i video scrivetemi sotto i commenti se vi è piaciuta iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelline e mettete un bel like ok noi ci sentiamo alla prossima volta ciao ciao